Continuano a crescere i contagi sull'isola d'Ischia che hanno raggiunto quota 648 attuali positivi da cui però bisogna sottrarre il numero dei guariti che nell'ultimo report dell'ASL aggiornato al 15 novembre probabilmente non riporta con precisione il dato di chi è ormai diventato negativo al covid. I dati diffusi dall'ASL però ci permettono di capire qual è la situazione isolana anche rispetto alla terraferma nel rapporto tra positivi e numero di abitanti una situazione che conferma come l'isola sia molto meglio rispetto a tante realtà della terraferma campana. Sono stati utilizzati quattro colori verde giallo arancione rosso per distinguere la gravità della situazione. Tutti i comuni isolani sono in zona verde solo quello di Ischia in gialla 228 sono infatti gli attuali positivi nel comune capofila 194 invece a Forio 79 a Casamicciola 78 a Barano 42 all'Acquameno 27 a Serrara Fontana. I ricoverati al Rizzoli al momento sono in totale 12 nessuno in terapia intensiva. Il numero in diminuzione sia per alcuni decessi in totale 4 la scorsa settimana sia per i primi guariti. Tra questi c'è Gigi Mattera dipendente del comune di Barano e volto noto della politica locale per due settimane è stato ricoverato nel reparto di subintensiva covid e sottoposto alla terapia del casco. Con non poche difficoltà e grazie al supporto dei medici sia lui che i genitori sono riusciti a vincere questa dura battaglia e sono stati da poco dimessi dall'ospedale Gigi e sua madre mentre il papà è in attesa dell'esito del tampone ma è ben avviato alla guarigione. Preoccupa invece il caso Don Angelo Iacono purtroppo le sue condizioni di salute non sono buone. Il vescovo ha scritto una lettera ai fedeli di Serrara Fontana ed è in continuo contatto con i medici e il cappellano dell'ospedale Rizzoli ma dalle ultime notizie emerge un quadro clinico stazionario che desta serie preoccupazioni. Don Angelo è sveglio ma non presente a se stesso e sottoposto a ventilazione non invasiva tramite casco respiratorio ma al momento non mostra segnali di miglioramento. Ha ricevuto nel weekend il sacramento della Santa Unzione. Da oggi inoltre al via i tamponi per i contatti diretti e indiretti del parroco. Da domani all'esterno dell'ospedale Rizzoli ci saranno anche i sanitari dell'esercito. Tra i ricoverati al Rizzoli c'è anche l'ex sindaco di Ischia Gianni Buono. Sabato 7 novembre è stato necessario il ricovero presso il nosocomio lacchese. La diagnosi praticamente chiara da subito. Covid-19. Già il giorno successivo si è resa necessaria la terapia del casco e da ormai più di una settimana. Gianni Buono si trova nel reparto di subintensiva. Tuttavia le condizioni ad oggi sono critiche per quanto i medici e gli infermieri stiano cercando di fare il massimo per riuscire a combattere il nemico invisibile. Se in casa il contagio continua a correre veloce e qui la zona rossa può rallentare tanto la curva, sull'isola fa ben sperare la gestione dell'ospedale Rizzoli. Lo avevamo già anticipato ma a confermarlo è anche il comitato unitario per la difesa e il diritto alla salute. Come auspicavamo e chiedevamo, scrive il Cudas, diversamente da quanto accaduto nei mesi passati, stavolta il Rizzoli non è stato interamente riconvertito a ospedale Covid ma ha mantenuto le sue funzioni normali pur facendo di nuovo spazio all'assistenza ai pazienti Covid a vari livelli. Per quanto riguarda il reparto di emergenza si è provveduto a differenziare i percorsi di accesso e di triage al pronto soccorso per i Covid e i non Covid, tutelando così pazienti e operatori. Notizie confortanti in un momento difficile anche per la comunità isolana. I tamponi, grazie all'impegno dei sanitari dell'esercito, come detto, verranno fatti all'esterno dell'ospedale non più solo nei giorni dispari ma tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Questo permetterà di essere più rapidi nella ricerca del virus e se saranno efficaci le misure restrittive della zona rossa potremo avere presto anche una frenata dei contagi.